Cosa stai facendo? Mi direi che faccio un pallino Siamo all'uvasso di Sant'Anna Ho detto bene? Abbastanza Eccolo il passo di Sant'Anna Oggi è Sant'Anna dall'alto In che voglio dire un po' anche il mio romanzico, perché Marianna, mia nonna Mariana, festeggiava oggi. Sì, incomprensibilmente per Gustavo perché c'è la finalità di cazzo. No, permetterò dei... In che parte vuoi... Niente vuoi fare. Vabbè, metto l'entrata. Ma le foto di casa le mi hai mandate a quest'altra? Beh, pensi che ce n'abbiano... Puoi spegnere. ... ... ... ... ... ... ...